Ciao a tutti da Mirelle Sottili. Ho fatto questa miscela, è un po' opata, però vabbè, è trasparente quando asciuga. È una membrana molecolare. Cosa fa questa membrana? Riacisce all'acqua. Io ora prendo un esempio pratico. Ho un tagliere, se mi vedo la moglie mi ammazza, lo inumidisco, ho sbagliato, questa è acqua, va bene, lo inumidisco con questa membrana molecolare per la metà. Aspetta, io sto facendo un video. Lo faccio qui assorbire e questo è il legno, poi assorbe anche parecchio. Dopo non ricoperta più questo, vai, non si bagna, va meno spesso. Come potete vedere, l'ho inumidito per la metà. adesso, ho una cartella, poi il muratore, io. Non con me è chimio, eh? Vado a bagnare le due estremità. Vediamo che succede. Questa è la parte non trattata. E come vedete, è bagnata. questa è la parte trattata. Vedete? L'acqua non gli fa assolutamente niente. Per una prova più concreta, si fa così, mi asciugo le mani, e vuoi bagnare un dito, ora mi è venuto detto, nel prodotto. E questo non è bagnato nel prodotto, quindi provate a insuppare nell'acqua, qua. E come vedete, questo non si è bagnato e questo sì. Ora ho fatto un'altra prova. Ho rubato due panni in microfibra. Proviamo a bagnarlo con l'acqua. Questo è trattato. Come vedete, l'acqua scivola via. Questo non è trattato. E si impregna tutto. Ciao!